Quello strumento lì sta affumando e non è niente una bandita sull'alto Ci hanno consigliato di eseguire un altro brano perché questo era troppo Allora io vorrei chiedere questa cosa è per domani Allora io sono stato un po' di volte ad Amsterdam perché stavo con un oracle Una ragazza che abitava qua, è la ricercatrice per la corte internazionale dell'AIA Bravo, bravo, bel confu E infatti abbiamo l'altro E niente, preferiva gli immigrati E quindi? Non racconterei la tua storia Ti volevo chiedere, quel paninaro parasolino che fa la ringa E quella piazza un po' larga, un po' arrotondata Nel nord qua, c'è la stazione Grazie Grazie A Westerkirk Westerkirk Grazie 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 Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intratterrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda. Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda, e quindi Lotto vi intrà con un pezzo inacustico. Siamo in Olanda. Siamo in Olanda.